Allora Rino, io sono un grande fan di Pokémon, ma non tantissimo delle carte Pokémon, però mi hai detto che questa carta la devo avere per forza. Sì, ma molto più di una carta. Molto più di una carta? Un quadro. Un quadro di carte. Ma adesso ho qui Federico che ci spiega un po' le cose. Federico, che cos'è? Questo qua è il quadro dove sono rappresentate e mai state tagliate tutte le carte olografiche del set base in versione Unlimited. La prima edizione Pokémon che è stata rilasciata negli anni, i fini anni 90 e possiamo vedere che tutte le versioni olografiche delle carte più importanti non sono mai state tagliate né nei bordi, né nella Dima del Colore, né da nessun'altra parte. Quanti pezzi ci sono come questo? Moltissimi pezzi al mondo e il valore attuale di questa Uncut Sheet si aggira intorno ai 100.000 euro. Direi che è super efficace. Peccato che non ho portato gli spiccioli, perché se no… Non era giorno di paga. Grazie Federico, grazie mille. Allora Rino, mi avevi promesso che mi compravi una carta, allora quella da 100.000 euro no, però questa costa poco, 13.000 euro dai. Ho solo 11.000 euro con me in un posto, mi dispiace. Con le voci a Arisa.